Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero di aver scelto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, poi ministro, io corriero, e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Figaro, il dice, se vuol bandare, signor Fontino, se vuol bandare, signor Fontino, in che cammino le suonerò, In che cammino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò Se vuole dire nella mia scuola la capriola, l'insegnerò Se vuole dire nella mia scuola la capriola, l'insegnerò, sì, le suonerò Se vuole dire nella mia scuola, l'insegnerò, saprò, 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 saprò Se vuole dire nella mia scuola, saprò, 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 saprò Se vuole dire alla mia scuola, saprò, 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 saprò Grazie a tutti.